Un altro? Un altro? Un altro? Un altro? Sì. Qui te va a lui? Sì. Un altro? 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 premia Salvatore Mangone, terzo classificato Loris Raffaele, medaglia anche per i due, Salvatore, la medaglia anche per i due, per Stipino, no no, per i due, per i due ragazzi anche, medaglia, un applauso di incoraggiamento eh, secondo classificato, gradino più basso del podio, Zaccaritano Dog, figlio d'arte, ce l'abbiamo già qui sul palco, Luigi Mangone, il simpaticissimo Luigi Mangone. Vince, vince la categoria, al suo rientro dopo un volo di gare di stop, mi pare, mi pare si fosse rotto due braccia, rientra, vince la categoria C9 da Taverna, da Taverna Verante Andrea. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.